Già, non abito! Ognuno ha... Nella cassetta c'è questo con George Moon che attiva questa ragazza Quando sentivo... che ne so... Vivo per lei e me partiva Allora, scambiato le cassette perchè è una abbastanza difficile anche per questo E... aspetta... Si bello così Ognuno ha... Grazie a tutti 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 Grazie a tutti